La pista anarchica è un grande classico della storia giudiziaria italiana. Nasce come termine con Piazza Fontana, anzi un po' prima, con le bombe della primavera a Milano. È una pista in qualche modo molto facile, sia a livello giudiziario, sia a livello politico. È molto facile per un motivo tutto sommato semplice. Gli anarchici sono persone che non fanno nulla per non mostrarsi ostili verso il potere, chi lo rappresenta, chi lo difende. Quindi in qualche modo indagare contro gli anarchici per questioni di attentati contro lo Stato, contro l'ordine costituito, è una manovra che produce molto rumore a livello di inchiesta, ma però non sempre a livello processuale questo rumore si traduce in condanne molto forti. Per esempio per la federazione anarchica informale sono tanti i processi che cominciano con accuse per terrorismo, associazione sovversiva, reati che possono valere decenni di carcere e si concludono con blande condanne per danneggiamenti, per insomma reati molto minori. Poi certo ci sono anche vicende che vanno più avanti. Il caso di Alfredo Cospito in persona è esemplare. Oltre alla condanna a 10 anni per la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, lui è stato condannato recentemente a 23 anni per una strage, cioè per una bomba esplosa una notte davanti a una caserma dei carabinieri in provincia di Cuneo che era una prodotto morti e feriti.